Benvenuto nel portale www.gmtermoidraulica.it. Tra i servizi che offriamo siamo lieti di presentarti una guida semplice ed intuitiva, utile per il calcolo termico. Consente di simulare la potenza necessaria in Watt per riscaldare il tuo ambiente, inserendo i soli parametri richiesti in base alle esigenze termiche. Per fare un esempio ipotizziamo di avere un locale con ottimo isolamento, dimensioni di 126 metri cubi, 3 metri di altezza, 6 metri di larghezza e 7 metri di lunghezza e avere una temperatura esterna minima di 5 gradi centigradi. Il risultato è di 6.846 Watt, approssimato. Il tuo fabbisogno è di 7 kW. Completato il calcolo potresti aver bisogno di una progettazione. Per questo motivo abbiamo pensato di offrirti un altro servizio totalmente gratuito che permette di caricare velocemente la piantina della tua abitazione, ufficio o qualsiasi ambiente da climatizzare. Dopo un'attenta analisi verrai contattato dai nostri esperti per ricevere tutte le informazioni e le proposte con i migliori marchi. Scopri le nostre offerte o contattaci per ricevere qualsiasi informazione. Grazie a tutti.